Stefano, nel preparare quest'anno Forum PA noi avevamo identificato tre temi principali. Il primo tema è legato al tema del verde, cioè della cosiddetta green new economy e quindi anche collegata ai temi ovviamente della sostenibilità, di ASVIS eccetera. L'altro tema è quello del digital transformation, siamo convinti che questo è un paese che deve essere il protagonista in quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale. Il terzo tema è legato invece al tema delle risorse, è difficile appunto portare l'Italia nella quarta rivoluzione industriale senza le risorse intese per risorse umane, cioè per il capitale umano. Dobbiamo valorizzare al massimo il nostro capitale umano dentro e fuori le pubbliche amministrazioni. Con te ovviamente, per il ruolo ormai che è importante che ricopri, voglio parlare soprattutto di questo tema. A te. Grazie Gianni, ma fammi dire che la scelta di questi tre temi è una scelta innanzitutto felice dal mio punto di vista e oltretutto si tratta di tre temi tra di loro strettamente collegati, nel senso che la realizzazione dei primi due, la sostenibilità da un lato e la trasformazione digitale dall'altro, hanno come condizione quella della formazione delle competenze nelle pubbliche amministrazioni necessarie per appunto attuare quelle politiche pubbliche. Tanto che nel nostro programma di attività formative i primi due temi che hai citato sono ormai da diversi anni molto, molto presenti. Sul primo noi abbiamo un dipartimento addirittura esplicitamente dedicato dal 2018 allo sviluppo sostenibile. Abbiamo alcuni docenti di eccezione, soprattutto uno che è Enrico Giovannini, che è responsabile scientifico, e chi meglio di lui su questi temi, e abbiamo in qualche modo ritenuto che la trasversalità stessa dello sviluppo sostenibile possa contaminare in realtà tutti i nostri corsi, tutta la nostra offerta formativa. Anzi, l'offerta formativa è proprio presentata in termini di contributo che ciascun corso può dare a ciascuno degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sull'altro pure abbiamo una forte offerta formativa da qualche anno, che abbiamo sviluppato in collaborazione con, prima il team per la trasformazione digitale e poi adesso il dipartimento per la trasformazione digitale, sempre seguendo la stessa logica, cioè quella per cui la formazione è una componente delle politiche pubbliche, una componente necessaria, ineliminabile, che determina il successo di una strategia, di una politica. E quindi i tre temi sono collegati. Per quanto riguarda quello delle competenze, naturalmente è il tema della scuola. Forse posso dire qualcosa su come questo tema è stato vissuto e dovrà essere vissuto alla luce della grande trasformazione che siamo stati tutti noi, in pubblica amministrazione, chiamate a realizzare con l'esperienza del virus. Diciamo, noi abbiamo dovuto riconvertire in una settimana tutta la nostra offerta formativa in modalità e-learning. Se me l'avessero detto prima avrei avuto qualche timore, ma se mi avessero detto prima che saremmo riusciti a fronteggiare nel modo in cui siamo riusciti da un giorno all'altro, questa sfida veramente non ci avrei creduto. Per la verità ci eravamo preparati, devo dire ci eravamo preparati negli anni precedenti, senza sapere naturalmente quanto sarebbe stato importante, avevamo una buona quota della nostra offerta formativa in modalità e-learning o blended, ma l'abbiamo dovuta riconvertire interamente in quella modalità. Beh, senti, è stata un'esperienza molto soddisfacente che secondo me ci porteremo appresso. Abbiamo fatto 83, tra marzo e maggio del 2020, 83 corsi in e-learning e abbiamo raddoppiato i nostri partecipanti rispetto all'anno precedente. Tra gennaio e maggio del 2019 avevamo avuto 6.000 circa partecipanti, ne abbiamo raggiunti nello stesso periodo 11.500 in quest'anno. Quindi questo ci ha dato la misura concreta di quanto questa tecnologia, e qui torniamo alla digitalizzazione, diciamo così, possa migliorare la capacità, per esempio, di un'amministrazione come la scuola di raggiungere persone, dipendenti pubblici, e quindi migliorare le competenze di questi dipendenti pubblici in una misura che non era immaginabile senza questa complessiva trasformazione. Quindi noi ce lo porteremo appresso questa cosa, naturalmente noi speriamo di tornare a fare presto anche corsi in presenza. In presenza, però portandosi dietro questa lezione imparata, come noi diciamo la lesson on-learn, evidentemente come diciamo spesso ci dobbiamo immaginare una pubblica amministrazione che è quella del futuro, dove appunto le due realtà, il virtuale e la presenza, si contaminano positivamente in questo caso. Quindi immagini una scuola dove non ci si contrappone a distanza o in presenza, ma i due approcci, le due metodologie, i due linguaggi, perché spesso parliamo di linguaggi diversi, si complementano. Certo, questo che hai detto su linguaggi è una cosa importante, bisogna fare attenzione a non immaginare che la differenza tra l'e-learning e la didattica in presenza sia semplicemente il fatto che in un caso e non nell'altro c'è il filtro di uno schermo, mantenendo poi le stesse modalità, le stesse tecniche. Assolutamente. In realtà cambia, cambia completamente, quindi bisogna imparare a insegnare in e-learning, che non è cosa semplice, non è una cosa che si impara oggi o domani, è un percorso. Per fortuna noi, come ti dicevo, il percorso l'avevamo avviato senza immaginare quanto sarebbe stato strategico in anni precedenti, quindi bisogna migliorare. È una cosa simile, se posso, in proiezione, sempre prendendo la SNAC come esempio di tutte le pubbliche amministrazioni, riguarda lo smart working. Anche lì è stata da un lato una sorpresa di essere da un giorno all'altro chiusa la sede fisica dell'amministrazione e i suoi dipendenti hanno continuato a svolgere le funzioni. Io al di là delle fasci, di questi titoli di giornale e al di là ovviamente di casi particolari che esistono in tutte le organizzazioni, anche private di assicuro, abbiamo visto una pubblica amministrazione capace di reagire e come dicevi tu, capace di reagire mettendo in campo. Ovviamente è stato avvantaggiato, come spiegavi tu per la scuola, coloro che avevano già introdotto, già avviato dei processi di innovazione di processo, dei percorsi di innovazione organizzativa, di innovazione tecnologica, però complessivamente è una macchina che ha reagito, fermo restando che i casi esistono sempre, ma d'altro ne esistono sia in presenza che a distanza, non è quello il discorso, ma forno ciò ha reagito. Chi fa poco in presenza continua a fare poco anche a distanza e viceversa. La formazione, se era importante prima, diventa ancora più strategica, abbiamo bisogno di una nuova APA che assuma nuovi modi di lavorare con nuove competenze, competenze digitali, competenze trasversali. Vai, vai a chiudere. Grazie. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Io credo che tutte le amministrazioni, così come la scuola, si porteranno dietro veramente, come dicevi, una lezione appresa. C'è qualcuno che si è preparato, qualcuno meno. È un po' come quando una volta per insegnarti a nuotare ti buttavano in acqua, non ti facevano prima i corsi, ti buttavano in acqua e quindi o affogavi oppure imparavi a nuotare. Per alcune amministrazioni e in una piccola misura, anche per la mia esperienza, siamo stati un po' buttati in acqua all'improvviso, insomma. Però io credo che l'errore sarebbe immaginare che nuotare per restare a galla è la stessa cosa che fare poi lo stile libero per restare alla metafora. Bisogna continuare a imparare a nuotare. Adesso abbiamo imparato però che possiamo stare a galla. Adesso non siamo affogati, non siamo affogati. Non siamo affogati. È il passo fondamentale perché non abbiamo più paura dell'acqua e adesso dobbiamo imparare a nuotare bene, però sappiamo che lo possiamo fare. Io credo che questo sia il tesoro. Noi dobbiamo tenere presente che abbiamo un'arma in più, abbiamo un'arma in più e la dobbiamo sapere utilizzare senza rinunciare alle armi che avevamo in precedenza, quindi dal nostro punto di vista, però combinandole insieme. Mi piace questa metafora. Finiamo con questa perché è proprio questo. Non siamo affogati, siamo rimasti a galla. Adesso però dobbiamo prendere i brevetti. Piano piano introduciamo stile ed efficienza. Mi piace giudere così perché è carina come metafora. Io non posso capurare a te, a tutta la scuola e ai colleghi buon lavoro perché appunto svolgete da decenni un ruolo importante e adesso ancora più centrale. Quindi grazie Stefano di questa testimonianza e grazie per il lavoro che state facendo. Grazie mille. Grazie a te Gianni, grazie a te, grazie molto.